Voglio parlarvi delle ultime scelte che abbiamo fatto a livello di materiali per realizzare il nostro campionario estivo. Prima di tutto abbiamo deciso di rifare queste scarpe che sono sempre state molto apprezzate da voi, sempre rivestite delle nostre pelli a concia vegetale ma con un tessuto esterno, un canvas fatto di un robusto cotone, si chiamano archè canvas, la particolarità è che abbiamo usato una suola nuova della Vibram che è questa, ve la mostro, vedete, Vibram, la quale è costruita a mano ed ha un'elasticità molto bella alla scarpa. Questa è la Calo, è inutile descriverla, voi la conoscete già, tante donne l'hanno comprata, l'hanno apprezzata, abbiamo fatto un'unica modifica, il camoscio ingrassato all'esterno e poi sempre la suola che avete visto prima, sempre la suola della Vibram, costruita a mano che è molto elastica. la cosa più bella è la realizzazione della scarpa Oblio, queste due scarpe stanno piacendo moltissimo perché hanno dei materiali, vedete che belle che sono, questi riporti tipo cuoio stanno piacendo moltissimo e rendono molto elegante la scarpa ma la cosa più bella ragazzi oltre alle nostre pelli interne che non fanno sudare il piede e che non fanno puzzare mai la scarpa è la pelle esterna. Abbiamo usato un capretto meraviglioso che le rende morbidissime. quindi tutti quelli che le hanno fino ad adesso comprate e provate le hanno definite comodissime. Vi dico un'ultima cosa, per una settimana noi vi rioffriremo la possibilità di acquistare queste scarpe, queste sono in due colori, uno blu e uno bianco e vi regaliamo una bella la spazzola per spazzolare le vostre scarpe realizzata in legno di faggio da un artigiano di Padova, un nostro ottimo fornitore di spazzole.